delizioso senza zuccheri aggiunti mettiamo 500 ml di latte in un pentolino ci metto a sciogliere 180 grammi di cioccolato fondente allora io lo faccio senza ma se volete naturalmente aggiungete 3 cucchiai di zucchero sciolto il cioccolato tolgo dal fuoco metto una bustina di vanillina e 3 cucchiai di amido di mais cucchiai belli colmi vado a frullare con il mini pinner rimetto sul fuoco e con una frusta mescolo finché non si addensa distribuisco in delle coppette di vedro sopra metterò della granella di pistacchio ma potete metterci anche quella di nocciole adesso facciamo raffreddare poi copriamo una pellicolina e li mettiamo in frigorifero così quando ci prenderà voglia di qualcosa di buono mangiamo un po' di questo budino senza mangiare troppi zuccheri